A causa dell'aumento preoccupante dei livelli di smog, sono inevitabilmente scattate anche a Piacenza le misure di emergenza previsse dal piano regionale per la qualità dell'aria. A causa del superamento dei limiti di PM10, sarà in vigore da oggi e fino a giovedì 6 dicembre compreso il divieto di circolazione alla categoria diesel Euro 4, dalle 8.30 alle 18.30, oltre alle limitazioni già in vigore fino ai mezzi con immatricolazione Euro 3 e al divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli. Inoltre, la temperatura media nelle abitazioni non potrà superare i 19 gradi, mentre il limite massimo si assesterà a 17 gradi negli spazi commerciali e ricreativi. Sarà anche vietato l'utilizzo per le biomasse destinate al riscaldamento domestico, in presenza di impianto alternativo, con classe energetica ed emissiva inferiore alle 4 stelle. Infine, è in vigore anche il divieto di combustione all'aperto, dall'eliminazione di residui vegetali ai falò, dai barbecue ai fuochi d'artificio, e di spandimento dei liquami zootecnici con modalità non ecosostenibili. Il piano regionale prevede, nella fase emergenziale, il potenziamento dei controlli in tutti gli ambiti soggetti a restrizioni.